Puntata speciale di We Love Nevegal, siamo alla terza. Quest'oggi siamo venuti a Palazzo Rosso, quindi nel cuore di Belluno con il primo cittadino Oscar De Pellegrin. Buongiorno Sindaco e grazie davvero di partecipare a questo incontro. Buongiorno e grazie a tutti voi per questa opportunità. Allora Sindaco, parliamo quindi del Nevegal, il colle tanto amato dai bellunesi. Questo nuovo progetto, We Love Nevegal, una nuova proprietà negli impianti di risalita. Una stagione invernale, abbiamo ospitato Davis a Biena la settimana scorsa, che promette grandi soddisfazioni. Si tornerà quindi a sciare e quindi anche Belluno come città avrà dei benefici per il rilancio del Nevegal, in cui anche voi come amministrazione credete molto, viste le opere che state mettendo in campo. Assolutamente sì. Io credo che questo sia un progetto per il Nevegal, ma soprattutto per la città e l'intero indotto che può attingere a questa località. È un progetto che è già un anno, un anno e mezzo che ne parliamo con We Love Nevegal, che abbiamo avuto fin da subito, fin dalla loro idea, ecco, di pensare di rivitalizzare questa località. E nel frattempo abbiamo sviluppato questo progetto condividendolo soprattutto con il territorio, con le associazioni che per tanti anni comunque hanno proposto una attività per tenere vivo, per tenere acceso ecco il Nevegal. Credo che con la condivisione di tutti questi attori, quindi avendoli coinvolti su un progetto più ampio, quindi mantenendo anche le loro attività che magari negli anni hanno portato avanti, credo che sia il biglietto da visita più importante e anche quello che ci dà più certezze poi nello sviluppo e quindi anche nella concreta possibilità di realizzare questo progetto. Io li devo ringraziare perché il colloquio è sempre stato franco, è sempre stato diretto, soprattutto a beneficio del territorio nostro, della nostra città, perché io ho sempre detto la città deve essere collegata al Nevegal e il Nevegal deve essere collegato alla città, perché è una località sicuramente a portata di famiglia, sia per quanto riguarda la stagione invernale, ma soprattutto quella estiva, che questo progetto dà un ampio respiro e un ampio progettualità di sviluppo, ma deve collegarsi anche all'attività della città e viceversa. Quindi il turista che arriva in Nevegal a passare la giornata, se in centro trova delle attività su cui è attenzionato, magari può fare nello stesso giorno sia la gita in Nevegal, ma anche attività culturali nella nostra città. E viceversa, chi arriva a Belluno per turismo sa che questa località è a portata di mano e credo non siano tante le località dove hanno a disposizione un centro di una città capoluogo che offre veramente tanto sotto l'aspetto culturale, sotto l'aspetto sportivo, sotto l'aspetto sociale, una ricchezza enorme di storia con una località che sicuramente ben si presta a tutte le attività, diciamo non estreme, ma per la famiglia, quelle moderate, quelle passeggiate. Parliamo in estate anche di attività e abbiamo visto quest'anno, grazie al grande impegno che ha avuto la nuova società Consorzio Tolomeo, di ripristinare anche le piste di Downhill, quindi anche l'apertura stessa della seggiovia ha portato tante persone in cresta e questo è stato veramente, i numeri ci danno ragione, i numeri ci hanno detto che è stato veramente importante aprire la stagione estiva con mille sforzi, insomma dovremmo essere tutti riconoscenti per gli sforzi che hanno fatto perché in 20 giorni hanno riaperto la seggiovia dove insomma l'indice che passava era quello che era impossibile, quindi hanno fatto il miracolo. I miracoli vedi a volte sono anche possibili quando c'è veramente la volontà di investire, di arrivare a risolvere dei problemi e la gente l'ha apprezzato. Questo credo che sia un grande biglietto da vista per la stagione adesso che andiamo in corso, quella invernale, ma soprattutto su tutta la programmazione che stiamo già e stanno già lavorando per il 25 e quello sarà l'anno di partenza veramente del progetto di rivitalizzazione del Nevegal. Rivitalizzazione del Nevegal, sindaco, ripartiamo proprio da qui. Opere pubbliche, il comune investe sul Nevegal per il turismo, quindi il progetto We Love Nevegal, ma anche per la residenzialità credo perché il colle può diventare quindi anche il, chiamiamolo, il salotto buono di Belluno a poca distanza dal centro perché penso che non siano molti capoluoghi di provincia, anzi credo che Belluno sia uno dei pochi che può avere un colle dove si scia, dove si fa turismo a così breve distanza chilometrica. E quindi come il comune sta intervenendo, sindaco? Ma sicuramente chiunque si reca in Nevegall in questo periodo, ma durante anche tutta l'estate, trova cantieri. E io credo trovando cantieri, credo che sia ecco una sensazione di qualcosa che si muove, di qualcosa che sta evolvendo e questo è quello che abbiamo dovuto fare. Io dico sempre, abbiamo messo in atto due progetti con finanziamenti del PNNR che, ripeto, sempre sono partiti dalla precedente amministrazione e questo credo che sia bello anche riuscire a avere un'amministrazione, la mia amministrazione, che ha valutato la bontà di questi progetti e li abbia proseguiti e abbia superato tutte le difficoltà che abbiamo avuto, perché non dimentico che soprattutto per quanto riguarda il laghetto che poi è funzionale per l'innevamento, quindi per tutta la località invernale, la prima valutazione della sovrintendenza era negativa. Quindi potevamo affermarci lì, dire alla popolazione magari non è possibile andare oltre e il progetto era perso e di conseguenza anche i finanziamenti. Quindi abbiamo voluto andare oltre, abbiamo voluto capire perché, abbiamo voluto aprire un dialogo anche con la sovrintendenza, grazie anche a tutta la struttura tecnica, soprattutto l'ingegner Tonon, che è stato, diciamo, la testa di ponte per costruire questo dialogo, siamo riusciti a superare anche quello. E io credo vedere oggi in quella località il laghetto ormai realizzato, perché è pronto, basterà solo il collaudo, credo che sia una bella cosa, perché quello è importante, come è stato detto, per l'innevamento. Io ho parlato con Davis Biena e credo che avere lì quei 28.000 metri cubi di acqua disponibile per l'innevamento è fondamentale per avere tempi più brevi e anche sicuramente la certezza di poter innevare quando ci sono queste finestre del freddo. Quindi questo è una garanzia per la stagione invernale. Ma anche nel piazzale, che qui abbiamo preso il progetto che partiva parte del piazzale e poi andava sui sentieri, l'abbiamo rimodulato perché l'idea nostra è quello, avendo già l'arrivo prima del piazzale nella rotonda, che è stata fatta nuova, quindi per me la porta dell'arrivo nella località nevega al dare continuità e caratterizzare con quel piazzale nuovo, accogliente, sia un bel biglietto da visita, uno si rende conto che è arrivato al centro del nostro colle e da lì può partire per qualsiasi attività. Quindi abbiamo spostato gli interventi e adesso sono in direttura d'arrivo e credo che sarà sicuramente, spero, apprezzato da tutti. Ma credo abbiamo anche portato avanti il finanziamento che c'era in essere, però era un po' quasi perso su quello che riguarda poi il ponte delle Erte. anche lassù è un problema che si trascina da anni, siamo riusciti a riavere o riassegnato, ora era la riassegnazione del finanziamento regionale e adesso partiranno anche qui i lavori. Quindi per dire che c'è tanto movimento anche da parte dell'amministrazione, è un dato concreto, tangibile, che crediamo e cerchiamo di investire tutto quello che è possibile. Non ultimo, una cosa bella, quello è anche un indotto sociale, un indotto aggregativo, un indotto di dialogo, quella di aver costituito le frazioni. Non dimentichiamo che abbiamo già fatto quattro incontri sulle frazioni e siamo rimasti veramente colpiti dalla risposta che queste nostre comunità, queste nostre frazioni stanno dando. C'è proprio bisogno, era quello che avevo raccolto un po' in campagna elettorale, e poi per correttezza ho voluto portare avanti, anche nonostante i confronti che abbiamo avuto in Consiglio Comunale, però oggi la gente ci sta dando ragione. Io credo che il cittadino che propone un progetto, l'amministratore deve coglierlo, deve valutare se è funzionale a migliorare il nostro territorio e anche la gente che ci vivono, cercare di metterlo in atto. E quindi all'interno di queste 26 frazioni c'è anche la frazione del Nevegal. Questo sia importante perché si può creare, ecco un nucleo, si può creare quella frazione, si può arrivare a avere quella residenzialità e anche sviluppo della residenzialità, perché questo ha portato tutto questo fermento, secondo me, sicuramente grazie al buon lavoro di Uof Italia con questo progetto di coordinamento, ma anche investitori, investitori che hanno già acquistato l'hotel Oliviere, qui stiamo già ragionando insieme su come svilupparlo e riqualificarlo in funzione a quello che è il progetto del Nevegal, ma anche poi la partenza della vecchia seggiovia. Quindi io credo che nei prossimi anni il Nevegal sicuramente sarà una meta di arrivo, di vivere bene la giornata o anche un periodo, perché no? E credo che tutti quanti dovremmo essere orgogliosi di questo e credo che quello che noi dovremmo fare come bellunesi è essere convinti che è una grande opportunità, dovremmo dare messaggi positivi, potremmo ognuno mettere il proprio contributo che sa dare a beneficio del territorio in cui viviamo e in cui crediamo. Le sue parole sindaco, un'ultima considerazione, ci hanno fatto capire, ora parlo come privato cittadino, che effettivamente c'è questo progetto di sviluppo e che quindi una famiglia può pensare di andare a vivere in Nevegal e di conseguenza anche delle attività economiche, perché si sa che una località sciistica e in questo caso una frazione si può sostenere se ci sono anche attività economiche e sociali nel territorio. Quindi ci si può arrivare concretamente quindi? Ma io non ho dubbi, nel cammino di rivitalizzazione, quando si è a un punto di partenza e poi le attività si sviluppano e emerge anche quel carattere positivo, io credo che ogni imprenditore che sappia che in quella località si sta sviluppando un indotto è certo che insomma mettere lì qualche iniziativa può solo portare bene. Assolutamente. Sindaco, la ringraziamo davvero molto di averci ospitato nel suo ufficio, grazie ancora e buon lavoro a voi l'amministrazione comunale e grazie per quello che state facendo appoggiando anche il progetto We Love Nevegal. Grazie Sindaco. Grazie, grazie a voi per questa grande opportunità. Grazie. E grazie a voi tutti per la gentile attenzione e l'appuntamento alla settimana prossima per un'altra puntata. Grazie a tutti per la gentile attenzione e l'appuntamento alla settimana.